Più di una tonnellata di fuochi d'artificio sequestrata dalla Guardia di Finanza in cinque esercizi commerciali tra Como, Villaguardia, Castelmarte e Merone, gestiti da cittadini italiani e cinesi, per un totale di circa 300.000 pezzi destinati agli imminenti festeggiamenti di fine anno. Sei persone, di cui due italiane e quattro di nazionalità cinese, dovranno rispondere all'autorità giudiziaria, si legge, del reato di commercio abusivo di materiale esplodente e omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. I baschi verdi della Compagnia di Como hanno infatti rilevato inoltre modalità di stoccaggio non rispettose delle misure di sicurezza, in quanto il materiale era custodito assieme a prodotti altamente infiammabili, quali riscaldatori, accendini e quadri elettrici. In aggiunta sono stati riscontrati sistemi di allarme e sicurezza antincendio non idonei e non funzionanti, nonostante la presenza di clienti attratti principalmente dagli articoli natalizi. Tra la merce sequestrata dalle fiamme gialle e lariane si contano petardi di ogni dimensione, da quelli mini a quelli maxi. Tutti prodotti che, seppur a norma di legge, rappresentavano, spiegano i finanzieri, un vero e proprio pericolo per come erano stati stoccati e commercializzati. La Guardia di Finanza raccomanda infine ai consumatori di porre la massima attenzione sulle condizioni di utilizzo e di stoccaggio degli articoli pirotecnici a rapida accensione e combustione, al fine di evitare i gravi incidenti che ogni anno vedono purtroppo coinvolte centinaia di persone.